Il Tribunale del Reesame di Perugia ha confermato le misure cautelari degli arresti domiciliari all'ex segretario del PD Umbro Giambio Robocci, all'ex DG dell'ospedale di Perugia Emilia Duca e al direttore amministrativo Maurizio Valorosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti concorsi truccati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo i giudici, ai quali i tre, ai domiciliari dal 12 aprile scorso, avevano chiesto la revoca della misura cautelare sussiste il pericolo dell'inquinamento provatorio. Nei giorni scorsi, Bocci, Duca e Valorosi si erano avvarsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti a GIP Valerio D'Andria, che aveva rimesso in libertà soltanto l'assessore dimissionario alla sanità Luca Barberini.